Ok, andiamo. Se ci facciamo beccare saremmo espulsi di sicuro. Bisogna riuscire a forzare questa porta. Grazie a tutti. 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 Blumen... Non c'è più niente da trovare qui. Non c'è più niente da trovare qui. Grazie a tutti. Non c'è più niente da trovare qui. Che tanfo che tanfo che c'è. Sono sicuro che c'è più niente da trovare qui. Grazie a tutti. Non c'è più niente da trovare qui. Non c'è più niente da trovare qui. So che c'è più niente da trovare qui. ... ... ... ... ... ... non c'è più niente da trovare. non c'è più niente da trovare. c'è più niente da trovare qui. ... non c'è più niente da trovare... non c'è più niente da trovare qui. ... 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 è inutile. ... 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 non c'è più niente da trovare qui... ... ... ... ... che si apra con questa chiave arrugginita. È inutile! ... 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 Questa chiave è arrugginita. Non c'è più niente da prendere qui. Controlliamo questo solaio. Non c'è più niente qui. Non c'è più niente da trovare qui. Controlliamo questo solaio. Spostatevi! 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 Professor Walden, cosa fa lei qui? Dovete andarvene! Presto! Ma quei cosi... cosa sono? Non lo so. Io mi occupo di avvertire le autorità. Ma lei si è fatto male. Non è niente. Ma voi uscite di qui. Sto cercando Kenny. È scomparso. Kenny, andate dal signor Friedman. Ma come? Tutte le uscite sono chiuse. Vi apro la porta del curtile. C'è una cosa che devo fare. Ricordatevi, la luce. Ho idea che ci siamo ficcati in un mare di merda. Ora possiamo uscire dall'edificio. Walden ci ha aperto le porte. Non c'è più niente da trovare qui. Non c'è più niente da prendere. Non c'è più niente da trovare qui. La sua reazione alla vista La sua reazione alla vista